ragazzo di 14 anni muore in classe da due anni in attesa di trapianto di cuore will porta in piazza pesaro 146 bare sono i morti sul lavoro in cinque anni nelle marche messa di sant'erenzio per la prima volta nell'omelia non viene definito né vescovo né martire branco di cinghiali avvistati a villa fastigi vicino le abitazioni le segnalazioni da parte dei residenti rossini tv sarà l'emittente ufficiale della vl trasmetteremo partite in casa in trasferta un saluto a tutti i telespettatori di rossini tv e ben ritrovati con il nostro telegiornale di mercoledì 25 settembre che apriamo purtroppo con la triste notizia che riguarda tommaso visciari il ragazzo di 14 anni che ha perso la vita a causa di un malore cardiaco mentre si trovava a scuola era andato in bagno dicendo di sentirsi male al suo rientro in classe ha perso i sensi e di lì a poco non c'è stato più niente da fare tommaso bisciari aveva 14 anni frequentava il primo anno dell'istituto livetti di fano e il tutto è avvenuto nella giornata di ieri 24 settembre intorno alle ore 9 inutili tentativi di rianimazione dei sanitari della 118 tommaso purtroppo non ce l'ha fatta strazianti le parole del padre che racconta di come il giovane aveva una malattia cardiaca congenita e per questo necessitava di trapianto al cuore era in lista d'attesa al sant'orsola di bologna da ormai due anni i medici gli avevano detto di rimanere pronti per essere chiamati in qualsiasi momento una telefonata che però non è mai arrivata e adesso per tommaso è troppo tardi al dolore della famiglia si stringono istituzioni e autorità l'abbraccio del sindaco di fano lucaser filippi quel nastro nero sui social per testimoniare il cordoglio di una comunità intera passiamo ora alla notizia di un incendio che ha interessato la zona di rio salso e che ha riguardato un appartamento al primo piano tutto sembra essere partito da una padella sul forno che ha prodotto così tanto fumo da costringere il 118 a trasportare le tre persone presenti al pronto soccorso per intossicazione i vigili del fuoco giunti sul posto certificano che ora la situazione è sotto controllo e che l'incendio è stato domato andiamo ora a pesaro in piazza del popolo dove la will ha portato 146 bare che rappresentano i morti sul lavoro nella regione marche negli ultimi cinque anni l'obiettivo è sensibilizzare la tema della sicurezza sul lavoro si è tenuto questa mattina a pesaro il flash mob di will march in piazza del popolo con la campagna nazionale zero morti sul lavoro il sindacato ha portato 146 bare nel centro cittadino numero che rappresentano i morti sul lavoro nelle marche negli ultimi cinque anni nove di questi avvenuti in questo 2024 di cui uno a pesaro nel maggio scorso è una campagna che portiamo in tutta italia quella di zero morti sul lavoro per far comprendere a tutti alla popolazione non solo gli addetti al lavoro che tante persone muoiono vanno al lavoro e non tornano la sera a casa e lasciano famiglie disperate ce ne sono anche tantissime che si ammalano sul lavoro e chi magari perde un braccio una gamba e la vita di quelle persone cambia allora l'impegno deve essere l'impegno di tutti e di tutte non solo di un'organizzazione sindacale di tutte le organizzazioni sindacali della politica delle istituzioni vogliamo un tavolo con questo governo un tavolo serio abbiamo fatto proposte li abbiamo consegnate li abbiamo spiegate alcune sono semplici si potrebbero mettere in atto senza costi però questo tavolo non l'abbiamo l'abbiamo avuto solo su un piccola parte della patente a crediti che è un provvedimento fatto in fretta e non tra l'altro esaustivo noi vogliamo un confronto vero perché vogliamo veramente arrivare a far sì che non ci sia nessuna famiglia che deve piangere la vita di una donna o di un uomo di un ragazzo di una ragazza che non torna a casa la sera dopo essere andato al lavoro nell'italia si è più di mille morti all'anno tenendo conto che sono solo quelli registrati dall'ina il ci sono parti del nostro sistema che non fanno riferimento all'ina il come copertura assicurativa quindi sono molte di più poi contiamo quelle che non vengono registrate che sono quelle del lavoro in nero del lavoro sfruttato le persone che vengono abbandonate nei campi poi si dice hanno avuto un malore spesso quel malore invece è una morte magari legata al caldo di persone irregolari che però vengono sfruttate il lavoro non può uccidere il lavoro deve essere un elemento per poter vivere per poter vivere bene dignitosamente queste 146 barre alle mie spalle e sono i morti sul lavoro e mancano i morti in itinere mancano le persone che si sono infortunate mancano tutti quelli che comunque soffrono di quelle che sono malattie professionali raccontano una storia di lavoro che non è un lavoro che dà la vita non vorremmo un lavoro di qualità un lavoro che consente che dà anche l'indice di quanto sia civile un paese e quindi pensiamo che da qua dobbiamo ripartire tutti insieme con formazione adeguata con la persona al centro del sistema lavorativo e non il profitto e con un sistema sanzionatorio efficace nel momento in cui il datore del lavoro o l'azienda ha degli interventi o dei comportamenti che sono lesivi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori. Presente al flash mob anche il sindaco di Pesaro Andrea Biancani a sostegno dell'iniziativa promossa dal sindacato. È ora di passare dalle parole ai fatti ormai sono decenni che si parte di voler ridurre quelle che sono i morti sul lavoro purtroppo sono sempre di più tra le azioni che bisogna portare avanti sicuramente un'azione di sensibilizzazione più forte di formazione sia di chi offre il lavoro ma anche di chi lavora perché anche chi lavora molto spesso magari in maniera superficiale va a ridurre quelli che sono i dispositivi per la sicurezza. Dall'altra parte è sicuramente importante aumentare i controlli cioè far sì che gli enti competenti assumino persone per poter avere sempre più ispettori quindi in grado di poter andare a fare le visite nei vari cantieri o nelle varie aziende. Parliamo ora della messa dedicata a San Terenzio patrono della città di Pesaro che si è tenuta come di consueto ieri nella giornata del 24 settembre tantissimi cittadini presenti per l'occasione così come autorità e istituzioni. A entrare nella storia però è l'omelia dedicata al santo poiché per la prima volta non è stato definito né vescovo né martire non essendoci notizie storiche a riguardo come afferma l'arcivescovo Sandro Salvucci che però ribadisce di come la forza della sua fede ha inciso nel popolo peserese che il 24 settembre serve per confermare quest'ultima. Duomo di Pesaro doppiamente protagonista nella giornata di ieri poiché oltre all'omelia dedicata a San Terenzio ha visto anche l'affissione dello scudo blu simbolo internazionale di tutela dei beni culturali promosso in questo caso dalla Croce Rossa di Pesaro. Si tratta del terzo stemma fisso nel peserese che si aggiunge a quello di Palazzo Mosca e Piazza del Popolo. Lo scopo è tutelare il patrimonio storico-culturale indicando in caso di guerra i monumenti e le strutture da salvaguardare per evitare il disperdersi del patrimonio di un popolo come avvenuto nella Seconda Guerra Mondiale. Vediamo ora invece alcune immagini che sono arrivate alla nostra redazione da parte di alcuni telespettatori che ci hanno segnalato la presenza di un gruppo di cinghiali nel quartiere di Villa Fastigi nella zona del rione Le Grotte a pochi passi dalle abitazioni. Si tratta di tre esemplari che come si vede nel video costeggiano le mura di una casa avventurandosi poi nel verde circostante. Altre segnalazioni che arrivano alla nostra tv riguardano invece via Paganini dove sono stati avvistati non dei cinghiali ma degli evidenti segni di inciviltà. Nel tratto verde che costeggia la ciclabile sono numerose le bottiglie di plastica e la spazzatura varia buttata come se quel verde fosse un bidone della spazzatura. Come televisione abbiamo già provveduto a contattare Marche Multiservizi che si è preso carico della segnalazione che provvederà alla pulizia del tratto affermando di come purtroppo nonostante passino costantemente per quella strada l'inciviltà delle persone continua a riempirla di rifiuti. E ricordiamo come sempre la possibilità di inviarci le vostre segnalazioni con un semplice messaggio whatsapp al numero 370-366-7210. Parliamo ora invece del GAD, il Festival d'Arte Drammatica della città di Pesaro che partirà con la nuova edizione il 14 ottobre. Per l'occasione abbiamo parlato con il direttore artistico del festival Cristian della Chiara. Dal 14 al 27 ottobre al Teatro Rossini di Pesaro torna il Festival Nazionale d'Arte Drammatica che quest'anno festeggia la sua 77esima edizione. Dal 1948 ininterrottamente tutti gli anni Pesaro protagonista del teatro non professionistico italiano con il festival che è riconosciuto come non solo il più antico ma forse anche il più prestigioso d'Italia. Per l'anno di capitale abbiamo voluto realizzare un programma particolarmente ricco dal 14 al 27 tutti i giorni sempre al Teatro Rossini ci sono spettacoli talvolta anche due eventi nello stesso giorno. Oltre agli otto spettacoli in concorso che poi si contenderanno i premi che verranno assegnati nella giornata conclusiva il 27 ottobre la domenica mattina quando si sarà la cerimonia di premiazione anche un focus speciale riservato alla scena teatrale pesarese con vetrina capitale tre compagnie pesaresi il teatro delle ombre il teatro della piccola ribalta il teatro accademia a dimostrare come questo territorio sia ricco e interessato al teatro non solo come pubblico ma sia anche un territorio di grande produzione teatrale e di grandissimo livello. E poi il GAD Festival ragazzi il contenitore specificatamente rivolto ai ragazzi in un festival che fa del pubblico dei giovani e giovanissimi il suo pubblico di riferimento un contenitore ancora più dedicato a loro con tre appuntamenti uno un appuntamento molto particolare inaugura il festival il 14 ottobre con tre eventi nella stessa giornata Giorgio Nardone psicologo di fama nazionale che affronterà i temi di una fase complessa della vita delle persone quella dell'adolescenza e l'affronterà fornendo strumenti di lettura e di supporto non solo rivolti ai protagonisti quindi ai giovani ma anche a chi con i giovani ha a che fare le famiglie i formatori gli insegnanti quindi un tripolo appuntamento sempre gratuito una giornata del 14 ottobre dedicato a questo. Sempre GAD Festival ragazzi il tradizionale musical la compagnia dell'anello di Forlì con un musical tutto dedicato a Shakespeare e alla sua opera Not to be con un evento speciale la mattina proprio per i giovani e anche un altro appuntamento mattutino il 26 ottobre con uno spettacolo realizzato dalla Lega del Filo d'Oro perché il festival di Pesaro con Università dell'Età Libera partecipa alla celebrazione dei 60 anni di questa istituzione straordinaria la Lega del Filo d'Oro che porterà a Pesaro uno spettacolo di un'intensità straordinaria che consiglio veramente a tutti di non perdere. Dal 14 ottobre al Teatro Rossini vi aspettiamo 77 edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica. Tutte le informazioni le potete trovare sui canali social, sui canali social dell'Associazione Amici della Prosa, sul sito dell'Associazione www.festivalgadpesaro.it e al Teatro Rossini, al botteghino del Teatro Rossini dove potete anche fare gli abbonamenti e acquistare i biglietti per tutti gli eventi in cartellone. Spostiamoci ora a Cagli, sede dell'Unione Montana del Catria del Nerone dove si è svolta la prima seduta della nuova giunta esecutiva nominata dal neopresidente Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano, eletto all'unanimità dai sei sindaci che ne fanno parte. Sarà affiancato dal sindaco di Frontone Tagnani e dal consigliere di Acqualagna Magnanelli, entrambi avranno carica di assessore, il secondo anche di vicepresidente. Passiamo ora ad alcuni appuntamenti in programma nella nostra provincia a partire da quello con la presentazione del romanzo I pionieri del metamondo di Tiziano Mancini che si terrà venerdì 27 settembre alle ore 18 in corso 11 settembre. Altro appuntamento sempre di venerdì ma alle 21 e 15 con Luca Botturi sul tema delle opportunità e problematiche di internet per educare alla critica che si terrà presso Palazzo Antaldi. Infine partono da domani 26 settembre fino al 29 gli incontri, le visite, gli spettacoli e i laboratori della Rovere a Pesaro dalla Signoria al Ducato con inizio dell'evento in programma al 18 e 30 presso il Salone Nobile di Palazzo Gradari. E andiamo ora all'archivio di Stato di Pesaro per parlare di una mostra che riguarda sempre la storia pesarese ma dal punto di vista della filatura. Via di Seta a Pesaresi, filande a Pesaro fra XIX e XX secolo. Questo è il titolo della mostra che si inaugurerà sabato 28 settembre a Pesaro presso l'archivio di Stato, un'occasione per riscoprire la storia di Pesaro nel segno del filato. La mostra si inaugura in occasione delle giornate europee del patrimonio che sono un appuntamento ormai consolidato a livello europeo. Ogni anno, a fine settembre, c'è un weekend dedicato all'apertura straordinaria di luoghi della cultura. L'archivio di Stato anche quest'anno aderisce con l'inaugurazione di una mostra dedicata alle vie di Seta Pesaresi che si abbina all'argomento generale scelto dal Consiglio d'Europa che è Root Networks and Connections che è stato declinato dal MIC, il Ministero della Cultura in Italia, come patrimonio in cammino. Ci dedichiamo quindi a un approfondimento sulle vie della Seta a Pesaro grazie a una mostra organizzata appunto dall'archivio di Stato e curata da Cristina Ravara Montebelli e dalla direttrice, quindi da me e da Sara Cambrini. Ci tengo a sottolineare che nella mostra è protagonista anche il Liceo Artistico Mengaroni che presta molti oggetti che vengono dal Museo Tame e insieme a molti altri collezionisti privati. Ma ci tengo a sottolineare il ruolo del Liceo Artistico Mengaroni perché in occasione dell'apertura faremo una visita guidata grazie a Mary Paolucci al Museo Tame e perché durante l'esposizione saranno organizzati anche eventi in concomitanza, cioè legati proprio ad approfondimenti anche laboratoriali. Inoltre la mostra si avvale della documentazione iconografica dell'archivio Gabriele Stroppanobili. La mostra è visitabile da sabato 28 settembre al 28 ottobre negli orari di apertura dell'archivio di Stato che sono piuttosto ampi dalle otto e mezza di mattina alle diciannove tutti i giorni, il sabato mattina fino alle tredici e in più organizzeremo aperture straordinarie. Già vi dico che il 13 ottobre avremo un'apertura pomeridiana e serale della mostra con visite guidate. Si potranno vedere i documenti dell'archivio principalmente ma anche degli oggetti legati appunto alle filande e degli abiti, dei tessuti, dei foulard, dei ventagli antichi che sono stati prestati da vari prestatori istituzionali o anche da collezionisti tutti inerenti appunto alla seta, al filato realizzato dalle filande di seta, non necessariamente quelle antiche pesaresi perché purtroppo non ci sono più oggi ma è una storia che inizia all'inizio dell'ottocento e che si protrae fino all'ultima filanda che è dell'epoca della guerra e che purtroppo è stata distrutta con la guerra. La ricerca appunto è stata la base della mostra che però si è evoluta grazie alle collaborazioni in particolare del liceo artistico e dei vari collezionisti privati che appunto hanno dato ulteriori spunti per l'allestimento e quindi anche per degli approfondimenti e c'è stato appunto anche un apporto importante da parte del progetto Aracne perché questa mostra si inserisce in questo progetto internazionale di rilancio e di valorizzazione appunto di tutto ciò che è l'allevamento del bacco da seta e anche la storia della seta in Italia. Parliamo ora di sport perché è con grande piacere che comunichiamo al nostro pubblico che la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha scelto come tv ufficiale la nostra emittente Rossini TV. Questo vuol dire che trasmetteremo tutte le partite della squadra sia in casa che è fuori casa a partire da domenica 29 settembre alle ore 21 e 30 dove la squadra affronterà la trasferta contro Nardò. Vi ricordiamo inoltre che dalla prossima settimana riparte il nostro programma insieme a Canestro, appuntamento fisso del giovedì sempre dedicato alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. E concludiamo i servizi di oggi sempre parlando di sport e di WL visto che per il terzo anno consecutivo si rinnova l'accordo con K-Sport. Questo è il terzo anno in cui abbiamo avviato questa collaborazione con WL. In realtà la nascita di K-Sport nel mondo del basket risale da vent'anni fa e proprio con la lungimiranza del prof. Venerandi, sempre preparatore storico della WL, che vent'anni fa ci diede fiducia quando eravamo alle prime armi nello sviluppo di questa tecnologia. Ad oggi siamo riusciti a realizzare e completare il progetto ormai da qualche anno nel basket dove collaboriamo attualmente sia con la Nazionale che con diversi club di Serie A1 e forniamo questa maglietta sensorizzata che consente di rilevare in tempo reale l'elettrocardiogramma dei giocatori con una serie di parametri che quantificano i volumi che i giocatori vanno a coprire durante l'allenamento in termini di accelerazioni, decelerazioni, salti e quant'altro. Anche diverse novità visto che comunque è sempre più accessibile a tutti. Sì, diciamo che una svolta per K-Sport a livello aziendale c'è stata a gennaio di quest'anno quando il Fondo Italiano Rialto di Milano è entrato nel capitale sociale cercando di spingere l'azienda verso due direzioni, una all'internazionalizzazione e secondo quello di lanciare un prodotto rivolto ai fans, quindi agli amatori, quindi con una tecnologia simile a quella che usano i professionisti che consenta ai fans e agli amatori anche di comparare i dati che possono raccogliere nelle loro partitelle amichevoli e nei loro allenamenti con quelle dei professionisti. Essendo nati in Italia, noi siamo qui a Pesaro, siamo a Basket City ma chiaramente ci siamo molto evoluti nel calcio e attualmente per esempio in Serie A tra le società professionistiche tra A, B e C su 100 squadre, un'ottantina utilizzano le nostre tecnologie. Lavoriamo con il Real Madrid, con l'Al-Nasar di Ronaldo piuttosto che con la National Argentina. L'obiettivo è stato quello di applicare le tecnologie recenti di intelligenza artificiale per la valutazione della performance dell'atleta e qui la Lega di Serie A è stata lungimirante in quanto già dal 2015 e abbiamo un contratto di esclusiva per i prossimi 5 anni, assegnerà il premio MVP quindi di miglior giocatore mensilmente a fine stagione sulla base dei dati calcolati dai nostri algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi è la prima volta al mondo che un sistema automatico sostituisce anche valutazioni giornalistiche. Prima di salutarci passiamo a vedere i programmi che ci attendono sulla nostra emittente a partire dalla Natura della Cultura con 50x50 capitali al quadrato la settimana di Sant'Angelo in Anvado. E poi a seguire, come ormai saprete già, amministrando i nuovi sindaci, appuntamento mercoledì 25 settembre alle ore 21.20 con il sindaco di Tavuglia, Patrizio Federici. E poi c'è comunque andare la 31esima giornata mondiale dell'Alzheimer questa sera alle ore 21.40 l'inaugurazione della mostra che trasmetteremo proprio sui nostri canali. Appuntamento come si diceva prima con tutti i giovedì assieme a Insieme a Canestro, la diretta anche sui nostri canali social e poi le repliche venerdì, sabato e domenica. Continua invece 29 settembre l'appuntamento con la VL. Sarà la partita appunto che trasmetteremo come vi abbiamo anticipato come emittente ufficiale della Carpegna Prosciutto Basket. E infine l'appuntamento del mattino con Buongiorno Rossini, la rassegna stampa dei quotidiani locali alle 7.20 in diretta anche sui nostri canali social. Il Tg di oggi termina qui, noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo telegiornale. Grazie. Grazie.